Come si è partita? Su quello educativo otteniamo degli ottimi risultati perché i detenuti che partecipano a questa attività sottoscrivono un regolamento particolare per cui si devono comportare anche meglio degli altri se vogliono rimanere all'interno di questa squadra. Abbiamo deciso di aggiungere all'attività interna del carcere quella di preparazione e anche il campionato e adesso noi dal 2014 facciamo un vero e proprio campionato federale e incontriamo squadre che vengono all'interno del carcere e facciamo il campionato di Serie C. Quindi sia per quanto riguarda i detenuti che per quanto riguarda questi giocatori che entrano nel carcere nasce una simbiosi quasi per cui nascono amicizie, si risentono, si danno appuntamento alla partita dopo, non solo per darsela in campo ma anche per fraternizzare, per capire che fanno parte della stessa società e che possono migliorare assieme superando quei pregiudizi che invece prevalgono nel sentire comune. I Balanzoni sono nati per dare spazio ai giocatori che non riuscivano a giocare con la prima squadra di Bologna nel 1928, con tutti gli stranieri che si avvicinano a Bologna per l'università, per le nuove persone che si avvicinano al rugby e anche per coloro che rientravano dai infortuni. I Balanzoni è un gruppo di diverse etnie, di derivazioni diverse ma con un unico obiettivo quello di divertirsi e di creare un gruppo forte all'interno e poi dal campo. Sabato è un derby, non sarete però neutrali? No, no, assolutamente no, ovviamente noi compariamo sopra come marchio del torneo ma non possiamo essere neutrali, saremo chiaramente tifosi, chiaramente schierati per il giallo dozza a cui auguriamo di vincere in maniera netta la partita, non manchiamo però ovviamente di fare in bocca al lupo anche l'altra squadra, però non saremo neutrali, questo è senz'altro. È la prima partita dove le due squadre si affrontano in campo, noi abbiamo partecipato all'inserimento di alcuni ex detenuti che sono venuti a giocare nei Balanzoni, ma come squadra e come partita è la prima in assoluto. Non ci siamo mai incontrati con i Balanzoni ma li abbiamo invitati quest'anno a confrontarsi con noi e ce la giocheremo, ce la giocheremo. Noi crediamo che ce la possiamo giocare, d'altronde nei campionati che abbiamo fatto ce la siamo giocati con tutti e nell'arco dei due anni di campionati siamo migliorati, i risultati ci aiutano e quindi i Balanzoni devono venire preparati e coscienti che non gli sarà lasciato un metro, si dice nel rugby che si va avanti centimetro per centimetro per arrivare alla meta, sarà una bella partita immagino. Credo che questa sfida sia importante, abbia un valore sociale enorme, un valore anche simbolico, ma soprattutto il fatto che il rugby vissuto in prima persona da grandi campioni possa essere veicolo portante, veicolo trainante per tanti appassionati che magari si fermano solo e unicamente a quello sport professionistico che vedi in tv tutti i giorni e invece il rugby si sta vedendo come ogni giorno di più sta emergendo. Perciò grande soddisfazione e soprattutto io ho avuto modo di fare in bocca al lupo ai ragazzi perché da questo primo trofeo speriamo che se ne possano trarre tante esperienze felici anche per i prossimi anni.